Bentornati su MrGadget.tech. Oggi vi parliamo di un prodotto un po' diverso dai dispositivi di cui vi raccontiamo abitualmente. Parliamo di Shelly Plus 2PM. Benvenuto su MrGadget.tech. Come al solito, prima di cominciare, qualche piccolo riassunto delle puntate precedenti. Se vi va, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e già che ci siete, lasciate anche un mi piace. Fermi tutti! Vi state chiedendo che cosa sia Shelly Plus 2PM? Beh, la prima volta che l'ho visto, confesso, me lo sono chiesto anch'io. Qui entriamo un po' nel tecnico, ma per essere precisi parliamo di un Power Metering Relay a due canali da 10A per canale e 18A di corrente totale. Ehm, scusi, non ho capito. È un accessorio che si aggiunge all'impianto elettrico e che rende intelligenti alcune funzioni e permette di comandare a distanza dispositivi che non dispongono nativamente di connessione internet e di comandi smart. In particolare, Shelly Plus 2PM si usa per comandare apertura e chiusura delle tapparelle elettriche oppure per accendere e spegnere due differenti punti luce e, volendo, può essere utilizzato anche per comandare le tende da sole. Qualche dettaglio in più. Questo dispositivo è realizzato in materiale ignifugo, ha una protezione per eventuale surriscaldamento, anche per il sovraccarico della tensione e anche per l'alimentazione con tensione eccessiva. Non solo, perché c'è anche un nuovo processore più avanzato che permette performance superiori. Questo non è il primo modello di questo tipo di dispositivo realizzato da Shelly. Per le connessioni con il mondo esterno ci sono sia il Bluetooth che il Wi-Fi. Beh, se quest'ultimo, lo sappiamo, il Wi-Fi serve per comunicare con la rete, poi viene utilizzato per ricevere i comandi che vengono impartiti dagli utenti, e con il caso del Bluetooth parliamo di una funzionalità utilissima per la prima installazione. Il suo semplifica notevolmente la prima installazione, qualunque tipo di rete Wi-Fi voi stiate utilizzando. Tutto bene, tutto molto interessante, ma quindi? Allora, per capire bene a che cosa serva Shelly Plus 2PM, bisogna immaginare un classico impianto elettrico in una abitazione dove non ci sono funzionalità smart. Un impianto classico che può avere anche molti anni. Per trasformare questo impianto e farlo diventare intelligente avete due possibilità. La prima è quello di rifarlo totalmente con i costi relativi. L'altro è quello di aggiungere moduli come Shelly Plus 2PM all'impianto esistente e installando questi moduli a metà tra i vostri interruttori e la rete elettrica. Sarà quindi, una volta fatto questo collegamento, sufficiente fare una prima configurazione per poter poi comandare punti luce, tapparelle, tende da sole sfruttando lo smartphone oppure, per chi ne dispone, sfruttando i comandi vocali dei principali assistenti che oggi sono sul mercato di Amazon, di Google e anche di Apple. All'interno di ogni confezione ci sono ovviamente tutti gli schemi elettrici necessari per i collegamenti. Però c'è una raccomandazione che è d'obbligo. Per gli interventi sugli impianti elettrici di casa è necessario rivolgersi ai professionisti. La vostra sicurezza attuale e futura viene prima di tutto. Gli impianti elettrici devono sempre essere certificati e per questo gli interventi di chi non ha certificazione professionale devono essere esclusi. Ecco, allora perché dovrebbe essere interessante scoprire un prodotto come Shelly Plus 2PM se poi tanto io non dovrei installarlo? Perché spesso gli installatori proporranno soluzioni più costose con le stesse funzionalità. Se avete un impianto Gevis, Bimar piuttosto che Bticino potete adattare senza alcun tipo di problema il vostro impianto con la piena compatibilità con i moduli Shelly Plus 2PM. Questo con costi molto contenuti e con un risultato garantito sul fronte della funzionalità. Per intenderci, il modulo Shelly Plus 2PM costa la metà rispetto a prodotti analoghi che vengono proposti dalla concorrenza. Ecco, date un occhio al sito perché troverete su iNovation, proprio nella sezione dedicata a Shelly, una serie infinita di soluzioni disponibili. Ci sono un sacco di pacchetti di prodotti che possono essere installati dentro la vostra abitazione. E all'installatore che lavorerà dentro casa richiedete uno di questi prodotti da cui trarrete un vantaggio sia in termini economici che di funzionalità. Ecco, spesso magari l'installatore tenderà a proporvi qualcosa di diverso e di più conveniente per lui. Quindi, insomma, essere informati su questo genere di dispositivi può essere d'aiuto. Tutte le informazioni su Shelly Plus 2PM e come utilizzarlo, ovviamente, su mrgadget.tech. A prestissimo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!